30, 1, 2, 3 Sembra sul punto di poter passare Nadira, così è Quindi al primo passaggio davanti alle tribune Nadira in vantaggio davanti Off e Matto Poi Loreto de Santana che ricordiamo ha corso ieri a Firenze Poi Olga Panti in quarta posizione Mentre di fuori scoperto è Prince del Vento Che avanza seguito da Paradisea Jet Poi vediamo di fuori anche Powder Chiude il gruppo lungo la corda Oviedo Pav Tanti primi 600 in 45-4 Da parte dell'allieva di Roberto Gradi Sempre Off e Matto in seconda posizione Lungo la corda davanti all'Oreto de Santana Avanza gradatamente Prince del Vento Trascinandosi Parase di Seagette e Powderfi Frazione in 15-1 sul rettilino delle Scuderie Ora siamo sulla curva sempre con Nadira Ricordiamo una delle due allieve di Vincenzo Mango L'altra è l'Oreto de Santana Terza lungo la corda Frazione della curva passata in 15-1 Ora secondo passaggio davanti alle tribune Si sono formate diverse pariglie Sempre Nadira davanti a Off e Matto L'Oreto de Santana e Olga Pant Mentre di fuori sono Prince del Vento Paradisea Jet, Powderfi e poi anche Oviedo Pav Abbandona la corda 15-4 la frazione Ora siamo sulla penultima curva con Nadira Sempre in controllo su Prince del Vento Ora Paradisea Jet che si è portata gradatamente sui primi Frazione in 15-4 Siamo sulla retta di là con Nadira che prova all'allungo Sempre con i fianchi Prince del Vento Off e Matto in seconda posizione davanti all'Oreto de Santana Ancora Paradisea e Powderfi Ora la frazione delle scuderie Viene passata da Roberto Gradi in 14-7 Aumenta il ritmo Nadira Poi sempre Off e Matto Lì in seconda posizione Sposta ora decisa Paradisea Jet Poi L'Oreto de Santana Powderfi allunga Nadira Siamo a 250 metri della conclusione Nadira in terza ruota Paradisea Jet Ancora lì anche Off e Matto Retta d'arrivo Nadira l'affronta in vantaggio su Off e Matto Poi Paradisea Jet Ancora L'Oreto de Santana Bellissimo l'arrivo Con Nadira ancora in vantaggio Ed è Nadira che la viene a vincere Davanti a L'Oreto de Santana E Off e Matto Quindi Gran doppio per Vincenzo Mango Che viene a vincere con Nadira Secondo posto con L'Oreto de Santana Nadira aveva corso lunedì a Follonica Mentre L'Oreto ieri a Firenze E oggi è venuto a cogliere i primi due posti Mentre terzo Off e Matto Lungo la corda con Antonio Greppi Grazie a tutti Grazie a tutti